In collaborazione con Studio Spataro, amministrazioni immobiliari. Bentornati ad una nuova puntata di Avvocati Rispondono. Oggi parleremo di licenziamento disciplinare. Vediamo ora con l'Avvocato Pollastro quali sono i comportamenti da evitare per non incorrere in spiacevoli situazioni. Buonasera a tutti. Eh, però non è possibile. Insomma, io non riesco a capire per quale motivo mi capitano lavoratori che mi pongono dei problemi pensando che io sia in grado di risolverli e sono problemi a volte assolutamente irrisolvibili perché il lavoratore cade sempre negli stessi tombini. Quindi non sempre, ma spesso si cade negli stessi tombini. Ci sono due ipotesi che mi permetto di segnalare in cui il lavoratore commette dei comportamenti che possono, che determinano, che possono fondatamente determinare il licenziamento, il licenziamento disciplinare. Si tratta, in buona sostanza, dello svolgimento di altre attività mentre uno è a casa malato, mentre uno è sospeso al rapporto di lavoro per malattia, o il caso della timbratura del cartellino fatta fare da un collega. Sono due casi che molti lavoratori dicono e ma lo fanno tutti, anche vero che lo fanno tutti, ma non sono assolutamente comportamenti da fare per i rischi, non solo per i rischi che essi comportano. Mi voglio spiegare meglio. Una recentissima sentenza ha affrontato un caso, devo dire abbastanza singolare, che ricorda peraltro un caso che avevo avuto io. Ebbene, un lavoratore assente per malattia, tra l'altro per un problema alla schiena, è stato fotografato ed è andato sul giornale perché ha partecipato ad una manifestazione popolare, una fiera popolare, dove lui suonava, suonava in piedi, e tra l'altro tenendo in mano uno strumento abbastanza pesante come la fisarmonica e quant'altro. E' stato a questo punto, c'è stata una procedura disciplinare, è stato licenziato perché lui, mentre era in malattia, svolgeva questa attività. Il lavoratore si è difeso, si è difeso, in modo particolare dicendo che questa attività era un'attività di tipo amatoriale, non era un lavoro, era un'attività di svago, ricreativa e quant'altro. Ebbene, le sentenze, attenzione, questa questione è andata fino alla Cassazione e il lavoratore alla fine ha perso. Ha perso e la Cassazione ha ribadito un concetto assolutamente consolidato in giurisprudenza. E cioè che lo svolgimento di un'altra attività lavorativa non importa se un lavoro retribuito o se anche a carattere materiale, ma deve essere non incompatibile con la situazione di malattia che è stata comunicata. E quindi il lavoratore ha un obbligo di adottare un comportamento che sia in grado di non pregiudicare la guarigione o ritardare la guarigione. Se ciò avviene, oltre a determinarsi una dubbio di simulazione dello stato di malattia, si può determinare anche una violazione di quei principi di buona fede e di correttezza dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore che comunque stanno alla base di questo come di tutti i rapporti contrattuali. Per cui attenzione, ama tanto, e ha tanto attenzione. Quando uno è in malattia non è il problema che non può fare nulla, ma non deve adottare comportamenti che possono pregiudicare la sua situazione, la guarigione, ritardare il rientro in servizio e quindi alterare il rapporto di fiducia nei confronti dei lavoratori di lavoro. Proprio partendo dal rapporto di fiducia mi ricollego all'altro caso, anche qui, e ma tanto lo fanno tutti, il fatto del lavoratore che magari è in mensa o in ritarda, telefona al collega, timbrami tu che sto arrivando. Attenzione, il problema non è di domandarmi quanto tempo è arrivato dopo veramente il lavoratore e provare che uno era in ritardo solo di qualche minuto o della violazione, se è stato grave o non grave, se nel frattempo che l'altro timbrava lui cosa faceva o non faceva. Il problema è che il fatto stesso di fare timbrare altre e quindi creare un artificio in cui uno fa finta di entrare o di uscire, ma non è vero, questo determina, è stato ripetutamente valutato dalla giurisprudenza come un'alterazione del principio di fiducia in tale da determinare il licenziamento del lavoratore. Attenzione, attenzione, non solo si stiamo di fronte a un'iposi di licenziamento, ma potremmo trovarci di fronte anche a un'iposi di truffa e se parliamo di pubblico dipendente è pure truffa gravata con tutte le conseguenze che ciò le termine anche sul piano della giustizia penale. Per cui, attenzione, i lavoratori, io spesso faccio riferimento e insisto sul difesa dei diritti dei lavoratori, ma ci sono anche doveri, doveri che non possono essere, venire meno perché tanto tutti lo fanno, tanto è normale, lo sanno tutti che viene fatto così, perché questi comportamenti sono comportamenti sbagliati e comportamenti che possono esporre a rischi gravi soprattutto sul piano della perdita del posto di lavoro. Grazie. I lavori straordinari in condominio. Vediamo con l'Avvocato Bortolotti quali sono gli aspetti più rilevanti per capire come devono essere regolamentati. Nell'ambito della vita condominiale una delle eventualità più rilevanti, di importanza più rilevante è quella dei famosi, famigerati, lavori straordinari, lavori che comunque si fanno, si devono fare in condominio. Uso questa espressione perché tutti noi sappiamo che oltre alla spesa che comportano praticamente sempre sono forieri di grandi discussioni, a volte anche grandi questioni, grandi litigi e se non addirittura anche questioni che si risolvono in tribunale. Allora, è bene conoscere due o tre aspetti che sono propri di queste eventualità e che si devono tenere a mente per poter avere un minimo di nozione un minimo di controllo più approfondito con riferimento a quello che accade quando vengono deliberati dei lavori sul nostro stabile anche magari di portata importante. Allora, dobbiamo ricordarci alcuni passaggi fondamentali. Allora, i lavori in condominio, i lavori in particolare quelli straordinari vengono naturalmente deliberati dall'Assemblea. Ecco, una volta che vengono deliberati i lavori non è che la questione sia finita perché è stata presa una decisione, possiamo dire che è soltanto all'inizio. Quindi, se vogliamo avere un'idea di quello che sta accadendo e che poi ha un riflesso diretto sulle nostre tasche è opportuno conoscere quelli che sono gli step fondamentali da qui in avanti. Quindi, in poche parole non è che abbiamo finito votando la nostra delibera ma se vogliamo occuparci di quello che accade dobbiamo tenere presente alcuni passaggi fondamentali. Cosa succederà dopo la delibera che autorizza i lavori straordinari? Ci sarà la scelta dell'impresa. La scelta dell'impresa è un passaggio spesso e volentieri affrontato nella maniera più superficiale possibile perché la scelta dell'impresa si fonda quasi esclusivamente sull'esame dei preventivi e voi direte normalmente invece il preventivo è soltanto un aspetto di quello che deve essere il ragionamento e l'esame che porta alla scelta di un'impresa perché non ci si può fondare per le nostre decisioni esclusivamente su un aspetto economico ma un consiglio di condominio per non dire un'assemblea comunque un consiglio di condominio e un amministratore accorto deve operare sulle imprese che si sono presentate candidate degli approfondimenti degli indagini di un certo tipo in riferimento al numero di lavori posti in essere quindi anche alla fama che si porta dietro questa impresa anche a chi la rappresenta e magari volendo essere anche i pignoli e con l'ausilio di un legale anche un'indagine circa il volume di contenzioso che questa impresa ha perché chiaro che se noi abbiamo la candidatura di un'impresa che ha decine di cause davanti a vari tribunali d'Italia questo può essere una spia di gestione non tanto buona dopo la scelta dell'impresa ci sarà la sottoscrizione dell'appalto l'appalto d'opera che è il contratto che appunto riguarda la realizzazione dei lavori dei lavori straordinari l'appalto d'opera è un contratto non ci dimentichiamo che deve essere dovoriosamente assai assai analitico mai generico quindi un consiglio di condominio o dei condomini che volessero esaminare questo contratto ancorché non dotati della competenza necessaria ma che volessero approfondirlo devono far caso a questi pochi aspetti ossia che il contratto sia assolutamente analitico nel riportare in primo luogo il capitolato che è la descrizione che ci deve essere sempre di ciò che l'impresa si impegna a eseguire nel caso specifico con l'indicazione di tutti i materiali e degli interventi e delle finiture che verranno utilizzate quindi il capitolato è una parte del contratto d'opera che deve essere sempre presente e molto preciso deve essere presente poi anche il cosiddetto computometrico che al di là della parola un po' complicata non è altro che l'indicazione di quello che noi andremo a spendere a misura di lavoro eseguito quindi anche questo in relazione alle nostre tasche può essere un aspetto da valutare per vedere se è stato rispettato anche quello che era stato promesso in preventivo e poi dovrà essere esaminato il progetto cioè non esiste un'indicazione vaga di quello che dovrà essere effettuato e realizzato con riferimento alle facciate del nostro stabile ma il progetto di lavoro deve essere ben chiaro all'interno del contratto di appalto e da noi esaminabile dobbiamo ricordarci che esiste sempre un termine iniziale e un termine finale molto preciso dei lavori con la possibilità eventualmente di proroghe stabilite con l'amministratore o col consiglio di condominio e con l'esistenza soprattutto di clausole penali per ritardi che non sono motivati da giustificazioni fondate cosa ci dobbiamo ricordare dobbiamo ricordarci da condomini accorti che l'amministratore di condominio ci deve far vedere assolutamente l'assicurazione che è stata stipulata dall'impresa appaltatrice cioè l'impresa che farà i lavori a copertura di qualunque guaio qualunque problematica dovesse nascere all'interno dei lavori gravosi che andranno a essere fatti ossia danni a terzi errori di progetto qualunque tipo di problematica durante le lavorazioni danni a proprietà private dei condomini senza questa assicurazione e i casi sono anche abbastanza frequenti i problemi diventano poi veramente veramente di difficile risoluzione un ultimo aspetto che riguarda un diritto dei condomini è quello dell'indicazione dei soggetti ai quali i condomini stessi si possono rivolgere in ogni momento per avere informazioni chiarimenti o anche per sollevare delle osservazioni delle critiche con riferimento all'andamento dei lavori ovviamente critiche fondate si spera i soggetti a cui fare riferimento sono ovviamente l'amministratore che come abbiamo detto tante volte è il nostro mandatario cioè è colui che ha l'incarico da parte nostra di occuparsi bene e diligentemente degli affari delle parti comuni e il direttore dei lavori il direttore dei lavori è una figura che ha un mandato da parte dell'amministratore quindi sostanzialmente da parte nostra a vigilare sul corretto adempimento sul corretto svolgimento dei lavori da parte dell'impresa sotto l'aspetto meramente tecnico quindi se noi dovessimo avere delle incertezze dei dubbi o anche lanciare degli allarmi sui lavori che stanno facendo sul nostro stabile abbiamo tutto il diritto senza ovviamente trascendere nelle molestie però abbiamo tutto il diritto di farci vivi con l'amministratore di condominio e anche con il direttore dei lavori siamo giunti al termine vi ricordo la nostra mail avvocati rispondono chiocciolalcomizio.it noi ci rivediamo alla prossima puntata studio spataro amministrazioni immobiliari a a a a